Lei si è dimesso nel momento in cui si è candidato alle politiche, da allora il partito ha vissuto una fase di scontri interni, guerre tra bande. Lei si sente segretario, ex segretario, in questo momento la guida del PD da chi è rappresentata. Io mi sento ancora il segretario provinciale di questo partito, non perché lo abbia deciso io, ma perché l'avevano deciso gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico nell'ultimo congresso provinciale e soltanto allora possono decidere se questa carica può essere confermata o meno. Fui costretto, devo dire, nello scorso dicembre a segnare dimissioni in seguito alla mia decisione di candidarmi alle elezioni primarie, pur non obbligato dal regolamento, il quale mi imponeva semplicemente di sospendermi, misi il mio mandato nelle mani del segretario regionale perché era giusto e corretto che dovendo partecipare alle primarie che lo facesse in condizioni di non vantaggio e quindi disse anche agli altri candidati uguali prerogative. Credo che sarebbe stato corretto all'indomani della celebrazione delle elezioni ridare una guida ad un partito che invece si è dimostrato a cefalo senza una linea politica, senza un'organizzazione, senza un indirizzo che potesse consentirci di affrontare diciamo le scadenze successive a partire dalle elezioni politiche fino alle elezioni amministrative, nelle quali purtroppo abbiamo verificato il risultato non è stato brillante. O il 17 giugno o in un'altra data si terrà comunque l'Assemblea. Lei è disponibile, sarebbe disponibile a ricoprire di nuovo la carica di segretario, magari anche protempore in vista del congresso? Sicuramente non sarò disponibile per un rincarico o per un nuovo incarico di segretario provinciale nel prossimo congresso, quindi annuncio fin d'ora che non mi candiderò alla guida del Partito Democratico nel prossimo congresso. Sarò disponibile solo se ci sarà la volontà della maggioranza dell'Assemblea provinciale a traghettare il partito, cioè dare un assetto al partito fino a... perché questi si organizzi nella celebrazione del congresso. Se mi sarà chiesto lo farò. Se non ci saranno le condizioni non esiterò a farmi da parte, a favorire diciamo una soluzione anche unitaria, anche equilibrate, che consenta al partito insomma di ritornare a vivere in maniera serena, in maniera costruttiva, in maniera efficiente e affrontare le prossime scadenze elettorali e politiche. Quale potrebbe essere, con quale struttura, quale organismo? Ma ci potrebbe essere, si era pensato di affidare ai candidati alle elezioni politiche il ruolo diciamo di coordinare questa campagna elettorale. Credo che sia come dire una soluzione di buonsenso. Sono quelli che poi in fin dei conti ci hanno messo la faccia e sono stati anche votati dai cittadini nelle cosiddette parlamentari. Potrebbe essere diciamo come dire utile affidare le sorti diciamo alla persona che abbiamo individuato quale punto di riferimento, diciamo punta di diamante nell'ultima consultazione elettorale che la senatrice Capacchioni come qualcuno ipotizza. Ma se dovesse essere necessario insomma rimetteremo in piedi un organismo che sia agile e veloce e consente di affrontare diciamo di ridare un'organizzazione. Ce lo chiedono i tanti militanti, ce lo chiedono i tanti segretari di circolo che rivendicano la presenza di un partito che dia una mano anche a realtà locale e credo che ognuno di noi debba fare uno sforzo dall'alto della propria responsabilità per ridare anche ai territori una guida, ahimè che manca ormai da molti mesi. Ho già avuto modo di dire che insomma credo di aver lasciato un partito in grande salute, un partito che aveva un ruolo nella società casertana che diceva qualcosa ai cittadini della provincia di Caserta e credo che tutto questo avrebbe come dire meritato un premio maggiore che consistiva nel fatto che avremmo meritato sicuramente una rappresentanza parlamentare più adeguata e consola non solo al valore del Partito Democratico ma soprattutto agli abitanti di questa provincia, siamo una provincia di quasi un milione di abitanti nella quale il Partito Democratico avrebbe dovuto avere un ruolo da protagonista. Tutto questo si era sententizzato, lo ricordo questo con un po' di orgoglio, nel fatto che quando abbiamo celebrato le primarie abbiamo portato alle urne nei nostri seggi oltre 33 mila elettori. Credo che sia stato quello il momento nel quale noi abbiamo dimostrato la nostra vera forza. Abbiamo dimostrato che quando ci uniamo siamo in grado di esprimere passione, competenze, entusiasmo e di avvicinare le persone alla politica. Purtroppo come d'incanto a dicembre questo si è interrotto perché si è preferito togliere una guida al Partito Democratico legittimata dal Congresso e affidarsi al nulla perché in questi mesi abbiamo avuto il nulla. Di chi sono le responsabilità maggiori per la situazione di grave difficoltà che vive il Partito in provincia di Caserta? Le responsabilità però sono un po' di tutti perché tutti hanno fatto prevalere personalismi, individualismi, interessi di bottega e di parte. Nessuno ha pensato al collettivo, nessuno ha pensato all'organizzazione, nessuno ha pensato a rafforzare l'idea che un partito tutto sommato è una grande famiglia e come tale andava sostenuta. E prevalza l'interesse di parte, sono prevalse individualismi che hanno fatto male. Hanno fatto male a tutti, poi, infine. Caputo che è un esponente di primo piano, suo ex alleato nella battaglia congressuale, ha secondo lei una responsabilità maggiore proprio per il ruolo sia istituzionale che politico all'interno del Partito? Se gli devo contestare qualcosa è stato quello di non aver compreso fino in fondo che era necessario unirci, invece ha preferito o quantomeno ha spinto molti di noi a favorire la frammentazione e la divisione. Probabilmente se tutti noi avessimo compreso il valore dell'unità oggi non ci troveremmo in queste condizioni.